Ciao a tutti i cripto amici, in questo video panico paura. E' uscito un bug veramente incredibile che non dovrebbe farvi dormire la notte perché è un bug che dipende dai processori Intel, le ultime versioni e praticamente colpisce tutti, qualsiasi sistema operativo, qualsiasi tipo di processore, servizio cloud, veramente una cosa incredibile e quindi qua ho messo il clown di Hit che quando ero piccolo non mi faceva dormire la notte. E che dire, il video che vi ho fatto su appunto come tenere le criptovalute al sicuro è ancora valido, però questo bug è talmente a basso livello che anche con tutti questi tipi di protezione non si riesce a fare nulla e vedremo anche un po' poi perché. Quindi per forza di cose vi devo parlare di questo oggetto qua che è un hardware wallet che sembra appunto una chiavetta USB ma è una cosa un po' diversa e questo oggetto praticamente ci permette di fare transazioni di criptovaluta in sicurezza anche su computer infetti, buggati o tutto quello che è. E se vi interessa capire un po' meglio com'è questo oggetto qui vi lascio il link in descrizione, c'è il mio referral code. Comunque questo qui è il Ledger Nano S ma ci sono diversi tipi di hardware wallet. Lo scopo di questo oggetto è quello di far sì che nel computer che noi utilizziamo per fare la transazione non ci sia nessuna chiave privata. Cosa significa? Significa che dal nostro computer infetto meno andiamo a interagire con questo oggetto e gli diciamo per favore mi firmi questa transazione. A questo punto qua noi dobbiamo interagire con questo oggetto schiacciare i tastini per confermare appunto l'ammontare e la transazione. A quel punto lì il computer nostro riceve la transazione generata e firmata e la invia appunto su internet. Quindi anche un ipotetico virus o anche questo exploit che vi farò vedere non può in nessun modo andare a intaccare un oggetto di questo tipo proprio perché fisico e ci chiede una conferma diciamo proprio nel mondo reale. I bug che vi sto parlando sono appunto questi ultimi Meltdown e Spectre che entrambi i bug permettono a un'applicazione che gira appunto nel vostro sistema di leggere quello che c'è in memoria. Quindi ipoteticamente se scaricate un wallet detto a caso di qualche shitcoins potrebbe leggervi le chiavi private dei vostri bitcoin o di altre criptovalute se non utilizzate un sistema di questo tipo. Quindi è una cosa molto grave non solo per le criptovalute ma per qualsiasi altro settore. Sono affetto? Probabilmente quasi certamente sì. Gli antivirus non è detto che possano proteggervi da questo tipo di cose è veramente una cosa molto brutta. Per Linux dovrebbero esserci già delle patch non so ancora se sono state rilasciate per Ubuntu e per gli altri operativi non ne ho idea. E veramente questo bug è incredibile giusto per farvi capire il funzionamento è questo. Voi avete un'applicazione attiva e lanciando l'esploit che non è stato rilasciato però appunto come potete vedere la memoria dell'applicazione attiva nel computer viene spiata da questa applicazione quindi è veramente grave quindi tutte le cose che hanno a che fare con banche, sicurezza, password sono tutte affette magari non riescono a prendervi la password della banca perché magari avete il two-factor authentication però possono in qualche modo prendervi la sessione che avete con la banca quindi una cosa assolutamente gravissima anche Google ha stilato tutte le applicazioni che sono toccate da questo tipo di vulnerabilità quindi in Chrome praticamente viene consigliato di abilitare una flag che permette alle value key tab di non interagire con lo stesso tipo di memoria e questo bug c'è anche su Android e comunque anche su altri sistemi operativi e questo tipo di isolamento che comunque è un workaround comunque c'è scritto che rallenta di molto l'utilizzo del sistema quindi anche qua è una soluzione tampone ma non c'è assolutamente da fidarsi e ovviamente questa cosa non colpisce solo i nostri computer possono colpire anche altri altri sistemi per esempio avevo letto che se voi avete un container docker con un appunto in esecuzione su un server in teoria il container docker di un'altra persona o comunque di un'altra applicazione se utilizza questo exploit riesce a leggere le informazioni riservate e addirittura questo exploit dovrebbe funzionare dall'interno delle macchine virtuali quindi anche se voi avete appunto un programma sospetto in esecuzione in una macchina virtuale anche il programma dentro la macchina virtuale riesce a leggere la memoria del del computer host quindi quello che occupa quello che ospita la macchina virtuale quindi una cosa impressionante e qui veramente ampio spazio a qualsiasi tipo di complottismo nel senso che google ha segnalato questo questo problema di intel però già qualche settimana prima questa persona comunque si era liberato di diverse azioni di intel quindi qualcuno potrebbe dire che in realtà questo bug era più o meno voluto oppure si sapeva già qualcosa è stato veramente una cosa molto strana e quindi qua tutti i complottismi nsac eccetera vedremo fin dove si spingerà questa cosa di fatto questo questa vulnerabilità è veramente di un'ampiezza incredibile perché colpisce praticamente qualsiasi dispositivo elettronico con un sistema operativo salvo computer vecchi e poco altro invece per quanto riguarda le criptovalute anche qua altra cosa abbastanza sconvolgente ci sono diverse persone che si lamentano che hanno versato anche cifre importanti 50.000 dollari su Coinbase e non gli vengono accreditate da tre settimane eccetera e quindi anche qua situazione da tenere sotto controllo e quindi niente questo hardware wallet che appunto trovate poi il link in descrizione supporta diversi tipi di criptovalute anche quelle non tanto conosciute ma purtroppo non non supporta Monero e dalla comunità Monero appunto è uscito fuori è stato finanziato con 996 XMR Monero un wallet dedicato quindi nel giro delle prossime settimane o mesi avremo l'integrazione di Monero probabilmente su Ledger ma anche su questo wallet dedicato che è sia open source che open hardware ed è fatto apposta per Monero però in realtà anche qui se qualcuno sviluppa le parti mancanti potrebbero essere integrate altre criptovalute la cosa interessante di questo progetto finanziato dalla comunità Monero è che a quanto si dice costerà meno di 20 dollari quindi costerà veramente poco sarà acquistabile in Monero e probabilmente verrà spedito dalla Germania quindi noi che siamo in Europa ci va anche abbastanza bene e che dire non non vi faccio vedere più di tanto come funziona questo hardware wallet perché comunque la teoria è sempre la stessa guardatevi i video che ho fatto su Electrum come esportare le chiavi private eccetera per quanto riguarda Ethereum vi consiglio di utilizzarlo con My Ether Wallet quindi selezionate appunto Ledger e dovete abilitare il support browser in questo oggettino qua e dopodiché fate connect e vi fa vedere il vostro bilancio e quindi My Ether Wallet è fatto molto bene vi permette di firmare supporta praticamente tutti i token Ethereum eccetera in realtà c'è anche un'applicazione dedicata che è questo Ledger Wallet che lo potete scaricare dal dal Chrome Store in realtà questa cosa diventerà un'applicazione dedicata perché nei prossimi mesi non ci saranno più le applicazioni Chrome eccetera comunque di fatto c'è questa applicazione come vedete è attaccato e non me lo riconosce questa è stata una delle cose che come dire non mi era molto chiaro fin da subito comunque adesso lo sblocco ok quindi è sbloccato la cosa strana è che appunto per utilizzare questo tipo di applicazione devo disabilitare il supporto browser quindi vado su supporto browser browser support metto no ok come vedete sbloccato e quindi fa vedere appunto le informazioni sulle transazioni che ci sono state e senza questo oggetto appunto non non si non si non si riuscirebbe ad accedere a questo portafoglio e ovviamente le stesse informazioni si vedrebbero anche su myether wallet però appunto ci sono molte più funzionalità che dire e se eravate indecisi se comprare questo oggetto o meno secondo me con con le notizie che sono uscite probabilmente sì ha senso comprare un oggetto di questo tipo perché neanche la macchina virtuale a questo punto vi protegge da da questo tipo di di exploit e che dire bisogna fare attenzione perché se dovesse succedere qualcosa qui non c'è nessuna banca da chiamare nessun numero di supporto però appunto con un minimo di accortezza poi una volta che imparato a usare un oggetto del genere non è poi così complicato da utilizzare c'è sempre il seed da inserire che è quello che vi genera tutte le chiavi pubbliche private e poi vi viene fatto scegliere un pin che è quello che sostanzialmente vi sblocca questo seed quando lo volete utilizzare questo seed è comune a tutte le criptovalute che appunto ospitate su questo oggetto e che altro ah l'altra cosa strana che ho notato di questo oggetto è che se installate troppi wallet che ne so più di tre o quattro però in realtà dipende poi dalla dimensione dei vari wallet sto parlando dell'applicazione wallet per questo oggetto c'è il rischio che se ne avete troppe installate non non è non interagisce più di tanto perché comunque ha una memoria limitata e quindi il mio consiglio comunque è quello di non installare dei wallet delle applicazioni che poi in realtà non utilizzate con le criptovalute installate solo quelli che effettivamente utilizzate spero che il video vi sia piaciuto mettetemi un mi piace se vi è piaciuto lasciatemi nei commenti cosa ne pensate degli hardware wallet vi saluto e ci vediamo in un altro video ciao